Il premiero verso il comune unico, già 620 le firme raccolte per l'accorpamento di 8 amministrazioni, si punta al referendum nel 2015. Il 13 di aprile 10 comuni trentini vanno al voto ad un referendum per decidere l'unificazione delle amministrazioni in 3 soli comuni. Nel Banale, in Val di Non e in Val Daone. Nel Primiero si punta alla consultazione nel 2015, ma intanto il processo di unificazione parte dal basso con una raccolta di firme. Gianfranco ben in casa. Un solo comune, al massimo 3 al posto degli 8 municipi attualmente esistenti in Primiero. Il processo di accorpamento dei campanili col conseguente risparmio di risorse è ormai avviato e parte dal basso con tanto di raccolta firme. In 8 giorni sono stati 620 cittadini che hanno deciso di apporre il loro autografo sotto al manifesto intitolato Comune unico di Primiero è l'ora della verità. La valle ha 10.000 abitanti ed è composta di 8 comuni, però continuano a litigare tra di loro, con la comunità, con l'unione dell'Alto Primiero, non se ne può più. Questa fase istituzionale è complicata e complessa. Bisogna semplificare e tornare a occuparsi dei problemi della gente, dell'economia, della crisi che sta attanagliando anche le zone turistiche del Trentino. Comune unico, secondo i promotori, non significa chiudere le sedi amministrative presenti nei paesi, ma ottimizzare le risorse, evitando spese inutili e sprechi di denaro pubblico. Il funzionamento della macchina amministrativa per i 10.000 abitanti del Primiero costa annualmente 1.300.000 euro. Semplificare dunque e per farlo si punta a depositare presso la Regione entro il dicembre 2015 la domanda per indire un referendum per la Costituzione del Comune unico, per offrire ai cittadini la possibilità di esprimersi democraticamente.